Si parla tanto della tutela dell'ambiente, in particolar modo della terra, ma il mare? Cosa fa l'uomo per preservare questa grande risorsa? Se lo chiede Roberto Danovaro, presidente della stazione zoologica Anton Dorn, nell'incontro Oceani, Mediterraneo e Crescita Blu, partendo dalla considerazione che il mare è la nostra risorsa, il nostro futuro. Tutto ciò durante l'ultimo appuntamento del ciclo, come alla corte di Federico II, ovvero parlando e riparlando di scienza, realizzato dall'Università degli Studi di Napoli, Federico II, svoltosi nella suggestiva location del Real Orto Botanico di Napoli. L'ambiente viene sfruttato, degradato, proprio alla stregua di un prodotto consumistico di facile accesso. Questo è stato possibile senza sensi di colpa, almeno fino alla fine degli anni Sessanta, con la comparsa dei primi movimenti ambientalisti. Gli effetti del crescente impatto dell'uomo sull'ambiente sono sempre più evidenti. I livelli di inquinamento crescono nel tempo e insieme ad essi crescono gli effetti sinergici dell'azione degli inquinanti sulle componenti viventi dell'ecosistema. Ma perché il mare viene trattato peggio della terra? Ascoltiamo Roberto Danovaro. Il mare viene trattato peggio perché basta un solo dato. C'è un target che si è fissato a livello globale di proteggere almeno il 20% della terra. Gli oceani sono protetti all'1%, mentre questo target in realtà per le regioni terrestri è raggiunto in molte aree. Anche l'Italia sta facendo bene da questo punto di vista. Resta moltissimo da fare per il mare perché vigia ancora una legge, che è quella dei pirati, dei corsari, del re somnia, del fatto che tutti possono impadronirsi di qualunque cosa. E questo vale anche per le grandi multinazionali che sfruttano le risorse senza dover chiedere a nessuno. In acque internazionali chiunque può fare qualunque cosa. C'è bisogno di regolamentarlo a livello globale. Con questo incontro si conclude il dodicesimo ciclo di Come alla Corte di Federico II, iniziativa che anche quest'anno ha registrato un grande successo di pubblico e seguito come spiega il rettore della Federico II, Gaetano Manfredi. Ascoltiamolo. L'idea per il nuovo anno è cercare, diciamo, nella scelta di portare sempre dei temi che siano dei temi di grande attualità, ma che allo stesso tempo mantengono un profilo di qualità scientifica alta in modo da coniugare quello che è l'interesse, ma anche con una capacità, diciamo, di insegnamento. Chi viene alla Corte di Federico, oltre a divertirsi, impara sempre qualcosa.